Con il passare del tempo si scopre un altro effetto indesiderato della cura Monti, l'obbligo di accreditare in banca tutti gli stipendi e le pensioni che superano la soglia dei 1000 euro al mese. Di fatto si espongono tutti coloro che hanno un debito che non riescono più a onorare al rischio di vedersi ignorato l'intero stipendio o la pensione e non il quinto dello stipendio come prevedeva la legge per consentire ai malcapitati di poter provvedere al sostentamento della famiglia. E' l'allarme lanciato dal vicepresidente dei senatori della Lega Nord Sergio Divina. Monti ha creato quella famosa regola che prevede che i trasferimenti di denaro superiori ai 1000 euro devono essere fatti con bonifici e in ogni caso accreditati su conti correnti. Il conto corrente non è protetto dalle azioni dei creditori. La mia pensione di 1100 euro potrebbe essere pignorata nel limite del quinto, ma se questi denari, questa pensione mi viene accreditata sul conto corrente, un creditore può agire totalmente su tutto l'ammontare della mia pensione. Sostanzialmente abbiamo perso le garanzie di chi ha molto poco di non vedersi sottratto anche quel poco che è il sostentamento per vivere. Va cambiata, va cambiata in qualche maniera e la soluzione potrebbe essere che se una persona ha un conto corrente sul quale vengono trasferiti o accreditati soltanto stipendi e pensioni, questo può, potrebbe essere pignorato non totalmente, ma come i redditi che confluiscono su quel conto, c'è nei limiti di un quinto. Questa potrebbe essere una soluzione. Grazie a molti che, intanto che non troveremo un tampone a questa situazione, espone tutti i poveracci indebitati a richieste ai propri totali dei propri averi.